Nome? Federico. Davide. Francesco Simone. Franco è un soprannome. Loredana. Cognome? Ferrara. D'Agostino. Silvestro. De Vietti. Età? 29. 39 anni. 56. 56. Titolo di studio? Sono laureato in ingegneria gestionale. Diploma scientifico. Laura in giurisprudenza. Laura in scienze giuridiche. Che lavoro fai? Lavoro come informatico. Lavoro sulle ambulanze, le guido e faccio soccorso sanitario. Avvocato. Impreditore nella distribuzione editoriale. Sei sposato? Sì. Sì, con Valentina. Convivo? Sì. Hai figli? No, non ancora. Due. Michele e Francesco. Uno. No. Hai animali? No. Li avevo, uno è mancato poco tempo fa. Parecchi. Sì, un cane, Clio, barboncino. Fai sport? Vado in bici. Poco. Attualmente no. Sì? Qual è il tuo sport preferito? Vado in mountain bike. Sci e andare in montagna. Mi piaceva moltissimo andare ad arrampicare. Pilates, sci, camminate. Toro Juve. Non seguo il calcio, ma seguo la nazionale. Juve. Ah, non seguo il calcio. Juve. La città più bella del mondo? Firenze. Cirie. Mi piacerebbe aver visto un po' più di mondo. Cirie. Dove fai le vacanze? Quest'anno le ho fatte in Grecia perché ho fatto viaggi di nozze. Quest'anno niente ferie, sono in ferie adesso per la campagna elettorale. Solitamente al mare. Bordigliera. Draghi o Conte? Draghi. Giorgia Meloni. Conte. Draghi. Si vax o no vax? Si vax. Si vax, fatti tutti. Non ho una posizione, io sono vaccinato. Assolutamente si vax. Ha il Green Pass? Sì. Sì. Sì? Sì. Favorevole o contrario all'eutanasia legale? È una questione di cui si deve occupare il Parlamento. Contrario, contrario. Favorevole o di una regolamentazione dell'eutanasia legale? È un tema troppo difficile che va affrontato ma che non può essere risolto con un sì o con un no. Favorevole o contrario alla cannabis legale? Anche questa è una questione che va affrontata in Parlamento. Contrario. Insomma, a uso terapeutico posso ragionarci. Favorevole o di una regolamentazione? Altrettanto, tendenzialmente contraria. Favorevole all'adozione per le coppie gay? No, ma soprattutto sono contrario all'utero in affitto. No. Non sarei in grado di dare una risposta. Direi contraria, penso che ci debbano essere anche qui delle attenzioni molto particolari quando si parla di minori e di famiglie. Il tuo voto più a destra? È stato il PD, sempre, da sempre. Sempre votato a destra, alleanza nazionale, fratelli d'Italia, coerenza. Non ho mai votato a destra. Forza Italia. Il tuo voto più a sinistra? Il PD. Non c'è. Non mi ricordo, cioè nel senso in area a sinistra. Ho votato radicale per tanti anni. Udc, se proprio si può definire a sinistra. A chi ti ispiri? A Giorgio Lapira. Giorgia Meloni. A nessuno in particolare. Mi ispiro sicuramente a una personalità come Mario Draghi. Cosa ti piace di Ciriè? A Ciriè sono cresciuto e mi sono formato. Io sono affezionato a questa città. Tutto quello che mi ha dato è quello che è. Tutto. La comunità, il senso di appartenenza a questa comunità. È qualcosa su cui credo molto e su cui si debba investire. È una bella città dove si sta bene. Di Ciriè mi piace la vitalità, l'attrattività e la capacità di essere sempre al centro di un territorio con grande possibilità di sviluppo. Al Palio dei Borghi ti fai per... Borgo San Martino. Borgo De Vesi. Io sono di Borgo Rossetti ma in realtà non ho mai seguito particolarmente il Palio. Non tifo per nessuno ma non l'ho mai fatto. Appartengo a Borgo Rossetti con orgoglio ma non ho mai tifato per nessuno perché mi sono sempre trovata ad essere in una posizione super parte sia come Presidente che come Sindaco. Via Vittorio pedonale oppure no? Assolutamente pedonale. Assolutamente pedonale con la collaborazione e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Dipende. Dire sì o no è una semplificazione inaccettabile perché tutto il centro va ripensato. Assolutamente. Via Vittorio può essere pedonale, può diventare pedonale ma solo nel momento in cui si possono risolvere tutte le criticità intorno che noi dobbiamo assolutamente risolvere. e che chi si troverà ad affrontare l'ultimo tratto appunto dei lavori si troverà appunto a dover risolvere. Certamente la pedonale piace anche a me e quindi cercheremo di andare in questa direzione ma con i correttivi necessari. Sottopasso o ferrovia interrata? Oggi l'interramento non è possibile con le risorse che abbiamo quindi sottopasso se si può fare nel migliore dei modi in termini funzionali e ambientali. Sottopasso perché abbiamo aspettato per troppo tempo la ferrovia interrata e adesso l'occasione c'è, bisogna coglierla e svilupparla nel modo migliore possibile. L'idale sarebbe la ferrovia interrata ma economicamente non è avvicinabile, costerebbe troppo. Assolutamente sottopasso perché è la soluzione possibile, concreta e realizzabile che stiamo portando a casa finalmente. Con chi preferiresti finire al ballottaggio? Oggi non è serio parlare di ballottaggio, facciamo la campagna elettorale cercando di convincere i ciriacesi sulle nostre proposte e sulla nostra squadra. Contro Loredana De Gietti. Non ne ho idea in questo momento. Spero di vincere a primo turno. Tassa rifiuti, hai avuto rincari o riduzioni? Rincari. Rincari. Sostanzialmente lo stesso. Ho avuto anch'io un piccolo rincaro perché in attesa che il sistema andasse a regime all'inizio dello scorso anno ci sono stati alcuni svuotamenti in più fatti all'interno del mio condominio. Il tuo sogno per Ciriè? Il mio sogno per Ciriè è renderla viva e renderla un posto adatto ai giovani. Il mio sogno? Dare un'alternativa a chi oggi non ha voce in capitolo rispetto a chi invece trova solo spazio nei gruppi privilegiati. Una palestra di roccia artificiale è un impianto a livello sportivo, non a livello di parco giochi, di skate. Sicuramente è questo. Il mio sogno per Ciriè è che possa diventare veramente una porta per un territorio sia verso Torino che verso le valli che verso il Canavese e che possa essere sempre più attrattiva e sempre più bella come sta diventando adesso. Grazie a tutti.